Abbiamo avuto e abbiamo in corso delle politiche attorno alla natalità, adesso non vi sto a tediare con i numeri, però sulle strutture utili e saperli in Lombardia noi abbiamo 284 consultori familiari pubblici e privati accreditati, di cui passano più di mezzo milione di persone all'anno e questa è una delle iniziative su cui ho incominciato a lavorare ma su cui non sono ancora arrivato a termine perché il consultorio è, secondo la mia visione, uno strumento che può essere fondamentale proprio per fare la politica della famiglia. Perché dico questo? Voi sapete che i consultori sono ad oggi quasi esclusivamente delle strutture che si occupano di sanità, sono nati, sono stati valorizzati quando con la legge 194 è stato introdotto l'aborto legale, l'introduzione volontaria di gravidanza nel nostro sistema e per ottenere l'autorizzazione all'aborto bisogna passare dal consultorio con dei colloqui e quindi il consultorio ha preso un po' questa piega, questa piega è molto sanitaria oppure è anche una specie di poliambulatorio diventato per molte donne straniere che non sanno dove rivolgersi e quindi utilizzano il consultorio, però il consultorio può avere una potenzialità più grande, senza togliere questa, che c'è, che va salvaguardata e mantenuta, ma può avere una potenzialità più grande che è la potenzialità di un punto di appoggio per la famiglia, soprattutto per quelle famiglie che oggi sono più fragili, che non sanno a chi rivolgersi, perché non sempre resta viva, forse nei paesi, questo è ancora più un po' presente, ma lo è di meno nei grandi agglomerati urbani, famiglie di giovani che si trovano un po' senza più i rapporti parentelo, senza più rapporti di vicinato, che in caso di bisogno di fronte a una difficoltà personale, per esempio una difficoltà in famiglia tra i coniugi o una difficoltà nel tiragrandi i figli, non sanno a chi rivolgersi per trovare un aiuto, io vorrei che il consultorio in futuro diventasse capace anche di dare questo tipo di risposta, abbiamo pronta una proposta di legge nuova su questo, ma il tempo, la scadenza del mandato elettorale, della legislatura non ci ha consentito di farla, penso, spero che potremo riprenderla in futuro. Niente, dico ancora due cose spot, poi mi piacerebbe se ci fossero anche delle domande, perché così approfondisco i temi che vi interessano di più, perché se vi faccio l'elenco delle cose ci annoiamo tutti quanti, perché ce ne sono veramente tante. Parlo di due cose ancora, parlo del buono famiglia e poi parlo, do un inizio di risposta a una delle cose che ha detto il sindaco. Il buono famiglia nasce da questi due anni di crisi, lo scorso anno, proprio ragionando sugli impoverimenti che ci sono come trend naturali, sono realtà di povertà sempre, ma con la crisi economica questa cosa si è evidenziata e dai dati statistici, insomma, dalle informazioni che avevamo, una delle categorie più a rischio era proprio la famiglia numerosa, la famiglia numerosa, l'ho accennato prima di passaggio. Allora l'anno scorso abbiamo fatto, nel 2009 abbiamo fatto un buono, chiamato proprio buono per le famiglie numerose, ovviamente a basso reddito, e che ha avuto un discreto successo perché abbiamo dato questo buono che erano 1.500 euro, quindi non proprio un bruscolino, insomma, un contributo che poteva essere di aiuto perché quando si fanno queste cose o si dà un aiuto vero oppure si rischia di essere un po', cioè costare tanto chi lo dà e non dare soddisfazione a chi lo riceve, invece 1.500 euro ci sembrava un contributo forte, abbiamo più di 17.000 famiglie che ne hanno usufruito, in parte stranieri prima la metà anche italiani, quindi perché un reddito era molto basso, quindi la dimostrazione che non sono solo gli stranieri che hanno tanti figli, questo andava dai tre figli in su, ci sono anche molte famiglie italiane che ancora fanno l'investimento sui figli, ma quando poi la difficoltà stringono c'è bisogno di intervento, questo è l'anno scorso. Quest'anno invece abbiamo cambiato l'obiettivo, sempre alla ricerca di colpire un bisogno che si evidenzia e abbiamo messo nel mirino la famiglia con un anziano ricoverato, vuoi nella casa di riposo, vuoi in una, oppure un disabile ricoverato nelle RSD, nelle residenze per disabili, perché sia nell'RSA che nell'RSD voi sapete che si paga una retta e questa retta varia da casa a casa, da residenza a residenza, ma generalmente è consistente, sono sempre più di 1000 Euro al mese e quindi sulle casse di una famiglia che ha un reddito non straordinario questa cifra può essere molto pesante. Allora abbiamo scelto di fare un buono, questa volta 1300 Euro, finalizzato a questa. È chiaro che la politica dei buoni è una politica di emergenza e quindi la terremo aperta fin quando questa emergenza c'è, ma la mia idea, che abbiamo già incominciato in parte a perseguire, è quella di arrivare a una collaborazione di tutti gli enti che si occupano della famiglia, perché queste le abbiamo fatti noi come regioni, ma moltissimi comuni che sono i titolari poi dei servizi sociali in prima fila, molti comuni hanno fatto provvidenze analoghe, buoni o iniziative molto simili e sarebbe molto bello, stiamo lavorando con l'associazione dei comuni e anche con i sindacati, sarebbe molto bello riuscire a coordinare le iniziative in maniera tale che non ci siano territori in cui ci sono più iniziative oltre a quella regionale e territori invece dove se non arriva quella regionale non c'è niente. Quindi utilizzando lo strumento dei piani di zona contiamo di lavorare, se avremo il tempo, stiamo parlando di futuro, però l'obiettivo è un po' questo. L'ultima osservazione la faccio sul tema della crescita della povertà, perché questo è un tema serio, tra l'altro l'Unione Europea ha decretato quest'anno come l'anno della povertà e dell'immaginazione sociale, per cui ci sono anche iniziative, convegni, riflessioni su questo tema che tendono a coinvolgere tutti quanti, perché la povertà è una sfida per le nostre società che sono società ricche, parliamoci chiaro, noi abbiamo un problema di povertà che non può essere paragonato a quello che hanno certi paesi ancora lontani dallo sviluppo, però ci sono persone e famiglie che sono in condizioni di povertà effettiva, povertà assoluta, perché uno si sente povero quando c'è un telefonino solo invece di due, stiamo parlando di quelli che fanno fatica a mettere assieme il pasto con la cena e sono fasce di popolazione che ancora ci sono e che quindi vanno utilizzati. Noi abbiamo fatto su questo, oltre a queste cose di buoni, abbiamo stabilito un rapporto stabile, abbiamo convenzionato, accreditato direi, la fondazione Banco Alimentare che voi sapete raccoglie prodotti alimentari per distribuirlo alle famiglie, alle persone più bisognose, più povere e quindi questo diventa uno strumento, non è l'unica possibile risposta, ma diventa uno strumento importante proprio nella politica di lotta alla povertà più estrema. Questo tra l'altro consentendo, visto che poi attorno a queste iniziative ruota sempre una grande quantità di persone volontarie, valorizzando quello che nasce dal basso si risponde anche meglio ai problemi. Non so se sono riuscito a darvi un'infarinatura di quello su cui stiamo lavorando, io mi fermerei qui perché mi piacerebbe sentire da voi qualche provocazione per consentirmi qualche approfondimento. Grazie.